Rosso Speranza, Rosso Speranza, muore giovane, che caro agli dèi? Muore giovanissima, ma in questo caso la morte, come nel caso di Diana, non annullano niente. E' lì presente sempre, tutti i giorni, nell'immaginario collettivo della gente, delle regole, non gliene importava assolutamente nulla, sotto nessun aspetto. Era lì, poteva essere, è meravigliosa, è bellissima, è regale, ma poteva essere tranquillamente una di quelle figure tipo madre Teresa di Calcutta, pronta verso gli altri, infatti lei prima, dopo, durante, era sempre disponibile verso gli altri, combatteva questa sua guerra all'interno della Casa Reale, con azioni umanitarie, ci credeva. Guardi, Gullotta, lei dice questa guerra all'interno della Casa Reale,